In questo video voglio raccontarvi una storia tutta italiana che non riguarda la serie A o comunque il calcio professionistico ma comunque che sarebbe potuta diventare presto una realtà molto affermata e che comunque avrebbe fatto appassionare moltissime persone soprattutto sia per la sua storia che per il suo obiettivo e che comunque sicuramente in molti della mia età ricorderanno e anche comunque con un certo dispiacere anche perché sarebbe voluto essere veramente una cosa molto interessante. Non so se ricordate qualche anno fa, all'incirca nel 2005-2006 comunque verso la metà dei primi anni 2000 in Italia si affermò un marchio Bickenbergs che produceva soprattutto abbigliamento, scarpe che erano molto particolari. Il suo proprietario è tuttora Dirk Bickenbergs il quale amava moltissimo l'Italia e che ha anche investito nel nostro paese soprattutto nelle Marche, nella zona del Metaurese, ovvero nella città di Fossombrone, città a cui era molto legato in quanto aveva sempre provato un certo fascino verso quei luoghi delle Marche. Appunto Dirk Bickenbergs dopo aver disegnato le divise all'Inter l'anno prima e iniziato collaborazioni sportive con altri grandi giocatori del calcio italiano, tra questi Giorgio Ghirlini che indossava le scarpe Bickenbergs o comunque avevano un contratto di sponsorizzazione, Dirk Bickenbergs ha deciso appunto di formare una propria squadra e promuovere il suo marchio che voleva anche entrare nell'industria calcistica e facendolo avrebbe voluto farlo partendo dal basso e generare diciamo un'atmosfera di curiosità e allo stesso tempo entusiasmante coinvolgere molte persone e promuovere il proprio marchio. Così nel 2006 Dirk Bickenbergs ha deciso di rilevare il Fossombrone che all'epoca era in eccellenza da qui ha deciso di formare la squadra e salire gradualmente fino ad arrivare al professionismo e chissà, forse anche in serie B o in serie A. Le prime annate in eccellenza non sono andate come previsto in quanto il Fossombrone non era riuscito a comunque riuscire a ottenere la salvezza, la promozione scusate, una volta che ci è riuscito il Fossombrone, che all'epoca si chiamava appunto Bickenbergs Fossombrone, è riuscito ad ottenere la promozione in serie D. Il primo anno è andato benino, mentre il secondo anno stava andando veramente alla grande. Tuttavia nel bel mezzo della stagione sportiva, se non sbaglio nel 2009-2010 Dirk Bickenbergs è stato accusato di evasione fiscale e quindi egli che si reputava e sosteneva di essere innocente, di avere tutto in regola, rimanendo molto deluso dall'Italia, ha deciso di abbandonare questo progetto calcistico e tornare pertanto in Belgio abbandonando la squadra, ma comunque non abbandonandola nel senso di farla fallire, bensì ha avuto un nobile gesto anche di pagare l'iscrizione per l'anno successivo con il club che poi inevitabilmente è retrocesso in eccellenza in quanto non aveva più i mezzi per sostenere tale categoria. L'anno dopo, esattamente nel 2011, Dirk Bickenbergs è stato provato innocente, ma ormai quel che era fatto è stato fatto e egli è rimasto appunto ancora più deluso dal nostro paese e ha deciso di non riprendere il progetto con la squadra di calcio che ha poi continuato ad esistere ed esistere ancora oggi come Fossombrone e proprio la scorsa stazione ha vinto l'eccellenza e al momento gioca nel girone F di serie D. Questa è la storia del Bickenbergs Fossombrone, una realtà che sarebbe potuta essere molto entusiasmata e molto bella, nella quale ha giocato anche un calciatore che adesso è in serie A ed è tale Vincent Laurini, al momento alla Fiorentina, quindi avrebbe avuto anche un trascorso, chissà, forse con il Fossombrone fino alla serie, mentre poi è andato al Carpi. Laurini veniva dal gubbio del quale era stato scartato, ma eccoci qui e purtroppo il Bickenbergs Fossombrone non ha riuscito a compiere la sua scalata, ma comunque le magliette erano davvero davvero molto iconiche e è stato un peccato. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!